l'attività di conoscenza. La nostra, ripeto, è un'attività di conoscenza perché noi siamo nuovi a questa esperienza, abbiamo necessità di capire, non abbiamo memoria storica, quindi dobbiamo necessariamente fare riferimento alle carte e ai documenti. Queste carte e questi documenti per legge devono essere messe a disposizione dei consiglieri comunali in genere e di quelli di minoranza in particolare. Si cerca di frapporre alla nostra attività una serie di ostacoli che non hanno nessun senso e questo è una limitazione che noi possiamo superare soltanto se la popolazione è dalla nostra parte. Se voi ci date il vostro sostegno e l'opinione pubblica ritiene e vuole sapere quello che succede nelle stanze segrete del potere, quando loro sapranno che siamo tutti a chiedere con conto di quello che accade, allora tutto diventerà più facile, ci saranno le due lucidità che vengono rispettate e lei vede a tornare a padrona. Grazie a tutti. Grazie mille. Alla prossima i consiglieri hanno già annunciato per questa buona pratica di politica e di rapporto di politica di politica di politica. Grazie più futuree. Buona sera a tutti.